Ciao, sono Marco, sai, compila il nome qua, parliamo di coding, qui, del free Python ogni di. JavaScript, lo sai, ti fa volare, entra nella chat con me, impara i divertiti. Compila quindi va, su Twitch c'è una magia, la programmazione sarà la più facile, oh sì. Deboca i tuoi errori, stringhe variabili, ogni linguaggio ha storie che noi raccontiamo qui, framework e librerie, nel codice si vive, ogni stream una scoperta, compila quindi va, insieme a noi, i beat che volano, compilando un mondo nuovo, dove tutto è possibile. Ciao, sono Marco, sai, compila il nome qua, parliamo di coding, qui, del free Python ogni di. JavaScript, lo sai, ti fa volare, entra nella chat con me, impara i divertiti. compila quindi va, compila quindi va, su Twitch c'è una magia, la programmazione sarà la più facile, oh sì. Deboca i tuoi errori, su Twitch c'è una magia, la programmazione sarà la più facile, oh sì. Deboca i tuoi errori, stringhe variabili, ogni linguaggio ha storie che noi raccontiamo qui, framework e librerie, nel codice si vive, ogni stream una scoperta, compila quindi va, vive insieme a noi, i beat che volano, compilando un mondo nuovo, dove tutto è possibile. Oh 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 oh, non è possibile. Oh 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 oh, vive. Deboca i tuoi errori, stringhe variabili, ogni linguaggio ha storie che noi raccontiamo qui, framework e librerie, nel codice si vive, ogni stream una scoperta. Con Piracuindiva Grida insieme a noi I beat che volano Compirando un mondo nuovo Dove tutto è possibile Compirando un mondo nuovo Su Twitch e Magic Compirando un mondo nuovo Dove tutto è possibile Oddio Aiuto La luce sembra le storie del terrore Quindi Ok Fa troppa luce questo coso Stavo sempre ridendo per... Ma stasera sono così vicino Alla camme Boh Non lo so come mai Ogni volta che ascolto Questo brano Noti difetti di metrica Di accenti Però in compenso riescono a dire Javascript è Donna così Siamo proprio Che c'avevano la torcia sotto tipo storia dell'orrore Vabbè comunque va bene Tanto poi ci sto poco in questa schermata Quindi Ah ultimo follower Codewithcrypto Ah non l'avevo neanche visto Che quello Qui volevo fare il ride probabilmente la volta scorsa Che è scappato C'erano C'erano due C'erano in due C'era frontend napoletano oppure così Una cosa del genere E poi Codewithcrypto Talmente rari Gli sviluppatori In realtà ce ne sono diversi Però in Italia Qualcuno c'è Qualcuno sta arrivando C'è chi stream anche tutte le sere Ci vuole anche un discreto Un discreto impegno Perché so Quanto impegno ci vuole Quindi io riesco a fare una volta a settimana Figuriamoci chi appunto lo fa Così frequentemente Adesso Questa roba qui Usate i rumori I rumori in fondo fondo Stavo leggendo la chat Ma è sempre il mio bot che scrive Quindi non c'è nulla Perché volevo provare A fare una live senza occhiali Perché adesso ho il problema di Ho gli occhiali Perché non vedo molto da lontano Il problema è che adesso vedo Non molto da vicino Però non è che ho bilanciato L'altro difetto Praticamente ho un'unione dei due Che mi da il peggio di entrambe Le cose Quindi Devo trovare degli occhiali da ravvicinanza Non so come si chiamano Che però non devono essere da lettura Perché da lettura Vuol dire che proprio il libro Ce l'hai proprio davanti Devono essere per quella distanza Che c'è tra lo schermo E solo per lo schermo Poi mi ha suggerito di Di provare degli occhiali Come si chiama Lenti progressivi E quelle dove tu Se guardi dritto Hai una correzione Ma se guardi verso il basso So che Non voglio diventare uno di Quelli senza nulla Senza volere a fare da nessuno Però Che Che parla sempre così Oppure C'hanno sempre Che fanno queste Questi Questi gesti Perché siccome non ci vedono bene Fanno sempre Così per vedere Guardate Mi stavo divertendo Perché mi vedo in cam E mi piaceva Mi faceva ridere la faccia La mia stessa faccia Da 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 prepuzio E quindi Mi divertivo a fare le smorfie Per vedere Dunque Stasera Volevo fare un po' di coding Come l'altra volta In realtà Anche se ci siamo un po' persi No L'altra volta Eravamo messi abbastanza Cioè Avevamo Iniziato a scrivere codice Poi dopo Ci mettiamo sempre un po' A parlare del più del meno E ci sta A fare un po' di Un po' di chiacchiere Anche per chi poi Segue live in differita Stasera Anche perché vedo che ci sono poche persone Quindi O Non siamo verso l'estate Quindi o c'è una partita O c'è qualcosa che io ignoro Ma se non Se io non guardo il telegiornale Non Ho un'idea di Di cosa potrebbe esserci O magari va così Che Come dire Le Le persone hanno di meglio da fare Che guardare uno che Che sviluppa A questo orario Quindi ci sta Uno spunto per i prossimi video Ciao Milleuna avventura O Leonardo Se mi ricordo bene il nome Ho fatto 20 post E mi è venuto il dubbio Ma solo perché Quando sono in live Non capisco più niente Quindi Tra l'altro andate A seguire Mi scordo sempre Di fare I cosiddetti Onori di casa Milleuna avventura Milleuna avventura Da altre parti Che si parli di programmazione Che si parli di gaming Quindi Perché non Non nasciamo da nulla E quindi tutte le cose Che andavano E Scorsi Scorsi E Sono in live Che avevi visto un po' che si parlava di Delfi Avevo fatto vedere un po' di argomenti Di una conferenza Che tra l'altro Ma io se puoi essere interessato Leonardo Spero sempre di azzecare il nome Sono una figuraccia Magari proverei a contattare L'azienda che poi fa la conferenza Perché magari potrebbero avere Così qualcosa di Extra Anche come posti Nel caso poi Tanto poi Ci sono degli argomenti Molto alla portata E Di solito La cosa bella Insomma di quell'evento Un po' il clima Il clima rilassato che si respira Quindi Ci sono ovviamente cose Istruttive Cose più sviluppatori Però Nel momento in cui È un evento abbastanza intimo Ecco Non è una di quelle Di quegli agglomerati Però Tra la cena e il resto Si sentono molti aneddoti Ed è comunque Diverto Infatti a me piace partecipare Cerco sempre di portare qualcosa Giusto per avere L'incentivo A A partecipare Esatto Per Barazzetta Più che altro Perché Nelle ultime due edizioni Hanno fatto anche delle riprese E infatti Per avere un'idea Forse non ho mai segnalato Tra l'altro il canale Adesso lo vado a pescare Così ve lo compilo Sì ve lo compilo Vabbè ci sta La deformazione Allora Dov'è 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 Vabbè facevo prima dire il nome Ma so che a volte Viene completato In maniera Quanto meno Errata Quindi lo voglio mettere Giusto Che poi forse Avete Avete anche già visto Forse l'ho già segnalato Bittime TV Che appunto L'azienda Che è La presentanza italiana Di Embarcadero Che poi è L'azienda che produce Delphi Che è l'ambiente di sviluppo Il linguaggio Che portiamo più spesso E ci sono dei filmati Su delle conferenze vecchie Tra l'altro una cosa Che secondo me A proposito di spunto Potresti essere interessato A provare E ci abbiamo fatto anche una live Sul mio canale Si trova anche E' un Un Caster Game Engine Si chiama Che è un E' un engine per fare giochi Interamente Fatto in Pascal Però E' compilabile Cross Sia con Free Pascal Sia con Delphi E Ci è succedente un sacco di roba In una live abbiamo provato A fare un elicotterino Che volava Siamo riusciti a vedere Un pochino di cose Il tutorial Che si trova sul sito Però Ecco il fatto di Abbracciare Se riesco a trovare Il link Anche di questo Così Ce l'avevo già nei preferiti Perché ogni tanto Vado a seguire Il blog Vediamo se me lo fa incollare Sì E Chi lo gestisce Pubblicato Messo così Infatti Così non ci si sbaglia Effettivamente E Chi lo gestisce E' un Vabbè In realtà un ragazzo Più che un ragazzo Si E' un ragazzo Però Che lavora per un'azienda Che produce videogame E' A tempo perso Vale E' la cosa interessante Di questo frame Adesso magari Cambio anche la visuale Così Che si può vedere Riusciamo a vedere il sito E' che A parte D'essere completamente open source Mi è venuto in mente Perché l'ho visto nel canale Di BitTime Che era una delle Ecco qui ci sono io Che Qualche chilo fa Con Come parlo delle Piai di Twitch Con Delphi Quindi Ho fatto anche una Una sessione C'è un Video racconto C'è qualcosa insomma Che dà un po' l'idea Della conferenza Questo è il creatore Del Caster Game Engine Tengo il volume basso Che Diciamo Molto simpatico Però Guardando si può vedere Quanto ha messo Nell'engine Ci ho scambiato un po' Devo qualche chiacchiera Ma proprio Poco poco Perché aveva visto La mia live E quindi mi ha chiesto Come andava Io dalla fatica Che facevo Nel tradurre in inglese I miei pensieri Mi sono messo sudare Quindi No la cosa interessante Del suo Del suo engine Annetto appunto Che ha un editor Per costruire tutto E che ha questo C'è una qualità Molto bassa Ma questo probabilmente È colpa mia Perché sto tenendo Probabilmente Lo streaming Però C'ha questa viewport C'è quello che si fa Con questo engine Si può mettere anche Direttamente in delivery Su un'applicazione tradizionale E quindi La cosa interessante Che ci trovavo Era che Fondamentalmente Io potrei In un certo senso Vedere se migliora La qualità In un certo senso Utilizzano anche Per cose Di business Che potrebbe essere Come dire Farci un'applicazione Non so Lavorando nel mondo Dell'automazione Un forno Qualcosa di Automazione Per presentare qualcosa Ecco il 3D Usare non per un gioco Però per qualcosa Che abbia un Un ambito Un ambito esterno Tipo Medicale O cose di questo tipo Molto interessante A questo punto di vista Ciao Fubit Ecco Faccio un Shoutout anche Fubit In realtà ho visto che di recente Ha streamato E Me lo sono Me lo sono perso Ma sono un po' impegnato A preparare Le cose E io l'ho trovato molto interessante Sia perché sul sito La documentazione C'è C'è 3D physics Sono un po' Di esempi Ecco non c'è da aspettarsi Unity Nonostante c'è anche Un overview Developer Unity E quindi Hanno un'esperienza Da questo Punto di vista Sul Game design Perché è un'azienda Che fa game design E quella Per cui lavora Il Prego Link games Fa vedere anche Cioè la usano anche Per produrre dei giochi Platform Bump cars Ecco qualcosa Di più Di più simile E Sarebbe interessante Vedere anche Come comunicano Con la rete Come fanno Ecco questo Escape from the universe Non l'ho mai provato E quindi non so Secondo me Ecco Catastrophe games Si chiama l'azienda E Fa vedere un po' Di Come sono arrivati Anche sulle console Perché questo framework Non con defi Si arriva su Android IOS Con Free Pascal Riescono ad arrivare Anche sulla switch E su varie console Che non sono Ecco diciamo Il pc punto Quindi Quindi interessante Come Come sistema E poi Open source L'altra cosa carina Che nella documentazione Loro fanno anche un po' Di Nel manuale Fanno anche Creato per un'applicazione Ma so che c'è una parte Anche dove ti dice Ok non conosci proprio Gli ide per il Pascal E fa vedere Lazarus Fa vedere un po' Di Delphi Fa vedere un po' Come dire Di Visual Studio Code Perché il Pascal E c'è anche un'introduzione Al Pascal Proprio con Hello World Funzioni Programmazione di oggetti Quindi E' perfetto come tutorial Per il di per sé Il linguaggio E' perfetto come tutorial E' anche per Imparare a usare Questo framework Quindi E' Chiaramente una cosa Molto di nicchia Da questo punto di vista Però dal punto di vista didattico Secondo me C'è proprio un abc del Pascal Ovviamente moderno Quello di free pascale Quello di delphi Che è quello classico Più un'altra serie di cose Perché noi non abbiamo mai Quindi Forse su questo canale Ne abbiamo parlato un pochino Però Anonymous function Se vado a vedere Il Diciamo Il Pascal attuale Non è come quello Di un tempo Ma un po' di cosine in più Tipo questa Cioè un La possibilità di dire E' piuttosto che ingrandisco Lui si Creare una Una funzione in line Quindi assegnare una variabile Una funzione Scritta così Anonima Fare le closure Usare i generics Usare tutta una serie di cose Che chiaramente Qui c'è generics collection Quindi immagino Che sia stato usato Da qualche parte Forse non qui Ecco My calculator Questo generic Mi sa che sia Del free pascale Perché in delphi Non si usa Non è necessario Calcolatore T Quindi il tipo Rimane aperto E tu puoi andare Ad aggiungere Qualunque tipo Nel momento in cui Lo utilizzi Puoi specializzare La classe Su single Su string Queste cose Non ci sono abituato Perché in free pascal Ci sono In delphi Non sono necessarie Non so perché hanno aggiunto Questo syntactic sugar Però Però può essere interessante Soprattutto per chi piace C'è creare dei giochi Creating game data C'è l'xml C'è un editor Proprio Fatto e finito E quindi è proprio Non so se c'è uno screenshot Pronto all'uso Forse la documentazione Forse la documentazione Il manuale Però nella live L'avevamo L'avevamo visto Ci avevamo fatto Dovremmo andare a vedere Dove si aggiungono Un po' Probabilmente gli asset Magari c'è qualche screenshot Ecco Forse questo qua Si vede Questo mi sa che è su Linux Però si magari Rendo un po' l'idea Cioè trascino Ho una gerarchia Metto dentro gli elementi Imposto le proprietà I miei file Importo suoni Immagini Importo di tutto e di più E mi ci diverto Chiaramente tutto questo È un generatore Poi di codice Che viene trasformato In un progetto Di cui fare la build In delphi In free pascal Nel tool che si preferisce Quindi Poi Chiaramente Facendo la build Uno può anche andare A fare le integrazioni Con Con L'editor Proprio del codice Si possono sempre tenere vivi Sia la progettazione Che la parte di codice Per Sviluppare in maniera più veloce Ecco La cosa che mi interesserebbe Provare di questo Di quest'ambiente È anche la comunicazione di rete Per fare Quei giochini Con un server O con qualcosa Che presupponga L'interazione tra più utenti Ci vorrebbe Mettersi lì E fare un bel project E vedere un po' Come funziona Come funziona il tutto Però ci vuole anche un po' di tempo Però Mi piacerebbe Protocolli di rete C'era qualche post Qualche giorno fa Sulla parte di Sound network Ecco Fare il download I protocolli I protocolli Mi piacerebbe Provare questi Real time Quindi avere anche la comunicazione Tra Tra diversi client Fare Cattle scene Comunque la documentazione È ben fatta Comunque c'è praticamente di tutto Alcune di queste cose Ce le abbiamo anche in Delphi Perché abbiamo la nostra Il nostro file monkey Quindi se in Delphi Ci andiamo a fare una Una bella applicazione Una 3D application Mettiamo dentro Cubi Sfere Mettiamo dentro Di tutto Mettiamo dentro anche Oii Che vuoi Ah Perché vuole La parte di android Ok Deve aprire il Il nostro cubo Lo possiamo ridimensionare C'è un ambiente 3D Sì Essendo un po' monocolore Così Non si vede nulla Ma ci vorrebbe Un Material Color Material Source Light Material Ci vorrebbe un po' di Oggetti In una live Li avevamo esplorati Un po' tutti Texture Color Material Source Io poi non mi ricordo bene Vabbè Questo se me lo metti rosso Non si vede un tubo Light Material Color Material Vanno resi figli di Però Non Forse vanno Ecco Vanno selezionati Light Material Source C'è una luce scura Sceglie il colore Si sceglie il Il punto Diffusione Si scelgono tutte le Quanto shine Quanto Illuminescente Cioè comunque Una parte 3D Ce l'abbiamo anche Nativamente Nell'ambiente Però ecco Più per applicazioni business Quindi Per applicazioni che sono Luce scura Sembra uno simone Esatto Beh Comunque Magari è una luce che proviene Da luce che è chiara Che si riflette su una superficie scura Quindi Ci sono anche queste 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 varianti In una In una live abbiamo fatto La terra che si muoveva Che ruotava E poi Le avevamo andate a compilare Per Per Android Avevamo visto che L'applicazione era Praticamente la stessa Poi cliccando si ingrandiva Poi si ripiccioliva Praticamente con zero righe di coce Abbiamo preso un mappo a mondo L'avevamo avvolto su una sfera Sembrava la terra E avevamo fatto un po' di queste Di queste prove Per capire un po' Oltre di la camera Come funzionava Perché effettivamente Io poi ne Ne so il giusto Per non dire zero Però Ok BitTine L'abbiamo vista Ecco qui Già che ci sono Quindi questi canali di Mille e un'avventura Questa settimana Volevo dare un'occhiata Un po' ai filmati Però dal Da quello che ho visto io Dove Compaio anche nel canale Si parla di Tidefcon Si parla di E questo è l'antefatto Facendo vedere appunto Il programma della conferenza C'era Carlo Barrazzetta Che assieme al fratello Erano creatori di game Per il Commodore 64 Di 87 Cos'era la Che a momenti Neanche a pensarci Sembra Per cui Da lì Chiaramente erano nomi noti A quanto pare Perché C'era effettivamente L'intervista Me la ricordo di averla vista Quando Stati intervistati Come creatori di game Per cui Essendoci qui Un interesse Elettrogaming Però ecco Da quel giorno Volevo guardare gli altri Ma sono troppi Sono veramente tanti Però C'è un po' di tutto Commodore 64 Ma anche cose nuove Vedo un po' di tutorial Quindi secondo me Per chi Insomma Mi piace cose L'assembly Quindi cose anche molto particolari Però Godot Quindi abbiamo delle cose Sia L'app Inventor Anche questo Ho sempre voluto dare un'occhiata Però Cosa un pochino Vecchia nuove Quindi chiudo youtube Quindi andategli a dare un'occhiata Fubit Va in visibilio ovviamente Fubit Dobbiamo fare la Il tuo Tra l'altro Appunto Se vuoi seguire anche tu Mille 1 avventura Seguire la vicenda Perché anche Fubit È un nostalgico Ha scritto Non molto tempo fa Con Il Pascal Un Gioco dungeon Ci vuole del tempo da perdere No Non ci ho capito Fai un insegnante Quindi Sicuramente è una cosa dove Più che Più che tempo È da perdere Diciamo un orientamento Nell'esporre le cose Quindi io invece ci devo ancora Prendere la mano Ma probabilmente non ce la prenderò mai Perché ormai Se non ce l'ho presa adesso Non ce la prendo più È una mia E quindi Fubit Ha fatto questo Dungeon Così è un gioco dungeon Quelle tipo Testuali Che tra l'altro È su Itch No? Su Itch.io Beh se hai il link Magari se te lo Se te lo blocco così Dungeon crawler Sarebbe bello fare Una versione grafica Però ci vogliono Gli asset Da quel che ho visto In un In un video Appunto Di Milone avventure Ci sono un po' di Di costi Volendo Qualcosa di Magari con una grafica Di Di sfondo Il castle game Potrebbe essere una cosa Che è interessante Da provare Per fare Sì Siamo molto nostalgici Troppo nostalgici Parlando invece Di cose nuove Un altro spunto Per un video Sì sì Lui Ha fatto questo Tra l'altro Abbastanza strutturato Mi pare alla fine Era venuto C'era qualche live Dove O provava E così ci si prova A giocare Tex quest Ecco C'era il Lì c'è il Il link Medica piattaforma Per i giochi Giochi indie A cui sono iscritto A cui pubblica Anche giochi Un altro Che ogni tanto Streama Anche lui Io e lui E lui siamo Attualmente gli unici A parte un barcadero Che ogni tanto Che streamiamo su Delphi C'è anche Patrick Non Patrick Svaz C'è anche Patrick Premarten Penso si chiami Si dica così Perché ho sempre avuto Anche lui Ha un canale Twitch Dove ogni tanto Stream Magari in live Anche adesso No Oddio Mi è venuto un E quindi anche lui Fa Delphi Però fa dei progetti Molto interessanti Starter kit Fa anche lui Dei giochi E quindi anche lui Diciamo Il problema Che magari per molti Può essere un problema Che parlando in francese Magari è un po' difficile Seguirlo dal punto di vista Del Della lingua Di quello che espone Però Fa un sacco di tutorial E quindi Tra l'altro Ha vinto Spirit of Delphi Dell'anno scorso Ormai pare sia Cioè il Il premio che danno In genere A Persone che si distinguono Insomma che fanno Per la community Esempi Cose di questo tipo Live Che insomma Divulgano Equivalente Un po' degli MVP Di altri Quindi anche lui E' abbastanza Come dire Operativo Dal punto di vista Del Di Twitch Anche lui Delfi A tutto andare Qui non so cosa stia facendo Mi ricordo che aveva fatto Un progetto con Firemonkey Per Udemy Quindi Fa un Impressive light Fa un corso anche per Ottimo Perché non ce ne sono Quindi E' un'ottima cosa Insomma Anche lui E' operativo Da questo punto di vista Mi è venuto in mente Perché anche lui ha un account su Itch.io Dove Ci sono alcuni Giochi che ha portato a qualche contest E quindi E quindi Anche lui E' uno che si diverte Come dire Infatti lo vedo anche dalla sua barra delle applicazioni Però ha fatto anche un tool Per richiamare Mi sembra FFMPEG Il tool per convertire i video Eh Non mi ricordo Lui E' molto sul tutorial Ecco Da questo punto di vista Fa vedere Comunque delle cose interessanti Per chi anche parte da zero L'uso degli stili Fare applicazioni un po' Un po' scure Chiare Con le animazioni Le prova su Mac Le prova Dovrei ogni tanto Dargli anche un'occhiatina Your choice System default Insomma Si diverte anche lui E' un po' che Due mesi fa Un po' che non streamma Forse Si è impegnato C'era qualche progetto Effettivamente è un po' che non Non lo vedo streamare Qua può essere che Può capitare Che uno Capitato a me Quindi figuriamoci Che uno si prenda un po' una pausa Bene Venendo a voi Non faccio di nuovo Riepilogo di tutte le Conferenze che ci saranno Perché tanto Comunque già le Ne avevo parlato l'altra volta Quindi Eravamo incagliati In una cosa un po' particolare Stavamo facendo il nostro Il nostro Plugin per lead Quindi Vado a riaprire un attimo Il nostro progetto Che era sotto Eh Sarà qui sotto Dove sono le live No Non era qua Dove era Non era qua Ah forse ce l'ho ancora qui Dove metto i progetti Vi fa vedere Questo carbon Esatto E lui scusate Mi viene Brutto di estremare Dopo Dopocene Che ti viene E c'era un problemino Che Non Mi lasciava Adesso metto Un bel code only Così Siamo Ah Ma si è salvato anche La disposizione Delle finestre Con lo split Interessante Però aspetta Non la voglio Sempre con lo split Ok Eh Questo però Mi piacerebbe Che rimanesse aperto Anche in code only Quindi E che in defici Possiamo Eh Possiamo fare in modo Di Eh Riassettare Come dire Le Le finestre Come ci pare E poi nel momento in cui Abbiamo scelto Il nostro layout Preferito Tra il layout iniziale Quello di startup Che ha la welcome page Che al momento è chiusa Perché è un progetto aperto E quindi la chiudi in automatico Eh Quello di default Che ha tutte le finestre attive E quello Eh Di debug Che invece tira su La watchlist Che tira su Costec Watchlist Variable Tira su Tutte queste cose qui Possiamo anche scegliere Impostare un layout Come questo code only Fare save Andarlo a salvare con un nome Assieme a quelli che ci sono E poi così Abbiamo qualcosa da ripristinare Mettiamo che Vogliamo rendere questo Che ha un layout Adatto per il debug Che è alternativo A quello standard Possiamo andare qui Eh E oltre a salvarlo Abbiamo anche un menu Che dice Set desktop Set desktop Set debug desktop Set default Set startup Cioè una volta che li abbiamo salvati Li possiamo impostare Come Configurazioni Del lead di default Per Debug default Cioè Durante il debugging Quando l'applicazione gira Il default è quello standard E startup È quello che ci troviamo Quando il programma parte Quindi potremmo scegliere di Oltre ovviamente A dark Light I vari colori Gli stili Eccetera Se non ci piace Il classico nero E scuro Quindi E Quindi Stavamo Cercando di risolvere Un problema Perché noi Ci andavamo ad agganciare Abbiamo fatto tutto il nostro Notifier object Ma si vede bene Secondo me è piccolo Il carattere Adesso lo ingrandisco No, così si vede sicuramente meglio Eh Avevamo fatto questo Interessante Adesso sto cercando Ah beh Sto cliccando nel punto sbagliato Eh Under menu click And content menu Qui andavamo a cercarci Questo menu Però c'era il problema Che Eh Ci dà un errore Di qualche tipo Eh Secondo me Perché interferiamo Con la registrazione Di qualche altro menu Eh Che però Quel problema Non ce lo dà Quindi Può essere che noi Dobbiamo trovare Avevamo preso questo Ci avevamo un po' giocato Su queste cose Però Quello che volevo provare A capire io Era se c'era Delle novità Legate All'edito La registrazione Di menu Avevo trovato qualche plugin In giro Che faceva Questo tipo di Eh Di lavoro Però diciamo che le classi Sono abbastanza ampie Sconfinate Qui Quindi mi porta anche Add editor local menu Eh Editor local menu Where to add a new action list Refactor Ok Questo editor local menu Però si tratta di Run to cursor Get editor local menu Eh Interferent Interferent To add to the editor local menu Eh Aspetta che C'è questa cosa qui Che potrebbe essere Ah beh ce l'ho già qui Eh Ce l'ho già Qua E' quello che sto già usando Cioè volevo cercare di capire Se qui c'erano delle Delle possibilità Ah ragiona Va con l'action list Questo potrebbe non essere Malvagio Perché si lavora con le azioni E forse potrebbe risolverci qualcosina Cioè Farci Lavorare in un modo alternativo Cioè invece che Fare manualmente un menu Gestire il click Eccetera Di passagli Un'azione Che in Delphi è sempre un L'azione in Delphi E' un Un'implementazione Del pattern Del command Cioè è una classe E' un metodo Da eseguire Che però non è implementato Con un metodo Ma con una classe E quindi Ciao Jax Ben arrivato E E quindi Eh Diventa anche un componente Che noi possiamo assegnare Aganciare dei pulsanti In modo che quando lo clicca Va a eseguire Questo Questo metodo Executed Di questa classe Che fa qualcosina Quindi Registra un nuovo Action list Eh The local menu Will be created Each time it used E called action update Eh Usa una categoria Per creare un sottomenu Eh Sottomenu E' il nome del parent Eh Con un punto Seguito dal Ah Ok Quindi Devi scegliere La category Se L'action list È registrato E deve essere Un registered Before the package Unloaded Ok Però C'ho degli esempi Di questa cosa qui Innanzitutto Da quando è che esiste Di solito Di solito Gli esempi Troviamo direttamente qua Però è sempre quello che sta nella guida Quindi Cerco di capire un attimo Come potrebbe funzionare Menu category Menù category Però me la dovrei creare Questa lista di Action list Questo potrebbe essere Un modo per non andare a inserire noi Manualmente un menu Direttamente Ma agire tramite 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 Passagli il comando da eseguire E il menu se lo fa lui In base al Allora Facciamo così Questa roba Già compilava La lascio lì Che mi fa Un attimo da modello Lo chiamo Lo chiamo Metto qui Menu Ad action Menu Poi vabbè tanto lo posso rifattorizzare Quindi noi dobbiamo prendere Editor services Ok E dirgli Non sono sicuro che questa sia la strada giusta Ma sono curioso di vedere che cosa ci salta fuori A meno che Ok Io non vado a fare una cosa di questo tipo Ehm Scusa Services Add Get editor local menu Ok Quindi Ups Sorry Questo punto che rompe Allora Menu Eh Services Get editor local menu Vado a fare una cosa che secondo me è più Allora questa tanto ce l'ho anche nel codice quindi non mi interessa Mi piacerebbe andare a vedere su github se per caso Perché non sono logato a github Adesso mi loggo Usa la pass key Ci fa molto prima Ok Novità Non ce ne sono Pare o no Issues Prendere Prendere spunto Prendere spunto Reopen Reclosed Ma che è No Ma questa è Questa è roba mia Che roba è Ehm Dunque Volevo cercare gmkit Si diverte anche gmkit Si diverte anche gmkit Allora Volevo cercare questo codice Perché sicuramente qualcuno ha fatto OLE O Questo Qui ti voglio Abbiamo i demos di radstudio Allora intanto me li scarico perché possono sempre tornare utili Tra cui ce n'è uno dove viene usata questa roba qui Action list Oh Perfetto 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 Ok Qua mi sa che è un editor Row write Begin write Oh Abbiamo trovato qualcosa da cui prendere spunto Che Tra l'altro sono gli esempi di Delphi Bastava guardare negli esempi Dove viene usato questo Get editor local menu Ma è vero che qui La cosa che si fa spesso è usare questa forma Piuttosto che es In realtà mi sembra un po' demodè ma Va bene Tanto poi non è un grosso problema Menu manager Tiene una lista di tutte le azioni Ok a me ne serve una quindi non ho bisogno di fare una roba così complicata Qui c'è l'action list Add actions immagino che verrà chiamato una volta sola nel momento in cui il menu manager viene creato Esatto Ok Fa questa register action list C menu category C menu cut debug Quindi questo è il fratello Questo è il nome della categoria Viene messo lì e ci viene messo questa action list Io direi Di fare una cosa di questo tipo Ovvero Quindi questo è la sua create Sta tutto questo menu manager Che fa un po' tutto e secondo me il wizard farà poco e niente Chiama esatto chiama questo menu manager Però tanto vale mettere secondo me tutto in uno Oddio Ho fatto bene qui a dividere per un ambito giustamente però Row, write, menu, category Ok Hanno messo questa Ma la caption Ok Comunque Io la farei così Adesso ce la metto letterale Allora noi la chiamiamo così Magari metti che abbiamo più opzioni da scegliere Quindi io farei una roba del genere Allora mettiamo Adessource string str menu category Io faccio questa stringa che è la nostra categoria del nostro menu e lo chiamo carbon Ok Poi abbiamo Nella create Lui Fa una sorta di Wire Si aggancia a questo Id services Quindi va a creare Io qui la create non l'ho messa L'avevo messa ma poi secondo me l'ho tolta Quindi lo andiamo ad aggiungere La create non ha dei parametri No Vabbè che noi prendiamo da Notifier object quindi Allora la create va bene Però dovremmo metterci anche Destructor destroy override Torniamo a fare anche l'override Altrimenti Queste risposte in alto Perché mi piacciono di più Visto che sono il costruttore e l'istruttore Inherited Create E qui andiamo a creare la nostra action list Ehi action man Allora action list Action list Proprio classica classica no? Si action list E action list Ok Vcl action list Ok Quindi dobbiamo mettere qui Vcl action list Secondo me la menu non serve Però la lascio un attimo lì Giusto perché compili ma Quindi t action list Quindi l'action list E' la cosa che nasce per contenere azioni da eseguire Comandi 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 signore Allora create Senza un owner Tanto qui non serve E qui Diciamo se abbiamo segnato l'action list L'andiamo L'andiamo ad ammazzare Action list E la distruggiamo Inherited Vabbè potete lasciarci anche solo inherited Ma mi piace scriverlo per intero Allora Più che action menu Vabbè Lo chiamo un attimo così Allora qui uso dopo la sintassi Supports Loro hanno diviso Si ad action Hanno diviso questa parte Vabbè La richiamano ma Fondamentalmente possiamo fare anche tutti in uno Quindi Questo viene creato nel create Nel create Nel create In realtà dobbiamo fare Vabbè la rinominiamo poi dopo Vado a chiamare questo add action menu Nell'action menu Gli dico If not supports Che è un'altra scrittura con cui fondamentalmente si va A fare una roba di questo tipo Cioè lui controlla se un oggetto supporta una certa interfaccia E se si rimette il riferimento dentro una variabile Diciamo che Se faccio questo e non lo supporta Potrei avere un errore Generalmente lo supporta Perché quell'oggetto Lo supporta Forzatamente E quindi ci sta Però in alcuni casi potrebbe essere che Vada in eccezione È abbastanza raro però Allora Var editor services Lo dichiaro qui Non mi ricordo il tipo Vabbè il tipo è questo Scemo Cioè sto chiedendo se supporta con l'interfaccia Quindi la supporta se Il tipo è quello Quindi se non la supporta Menesco Tanto non c'è nulla da fare Qui lui cosa fa? Registra da false Ah si tiene un flag per dire se è riuscito a registrarlo o meno Ci sta Perché dopo non la va a rimuovere giustamente Allora mettiamola anche noi Registered Boolean Con lo scopo qui Siccome io mi ricordo poco e niente È anche di Così vedere un po' le best practice Di come si fanno queste estensioni del lead Alla fine non è un gran Allora Questo in realtà poi è già false Quindi non è che io abbia bisogno di Metterlo così Tutto al più metto exit Se ce la faccio andare avanti Lo metto registrare da true Questo lo tiro via E qui lui cosa va a fare? Va a dire Get editor local menu Ok Quindi var L Local menu Uguale Editor services Get editor local menu Prima di dire registrato Qui dobbiamo fare un po' di cose Ovvero andare a mettere nella Andarci a creare le nostre azioni Quindi fammi vedere lui come li crea Abbastanza semplicemente Direi Quindi c'è un write to file Delete Replace Fa un po' di cose sul source Che può essere utile anche a noi Sapere come le fa Mi copio qui Lo snippetino di codice In realtà Potrei anche chiedere all'AI Però una sera In una live Facciamo la configurazione Della Smart In realtà L'ho già Fatto un demo Lo smart AI engine Per l'editor Per la chat Io ho utilizzato Gemini Con Aiuto Ho avuto un accidente Anna appena iniziato a seguirti Grazie per il follow Ad Mexican Appena arrivato Ho appena arrivato Seconda delle E Avevo provato Gemini Non è molto preciso Però mi sarebbe piaciuto Provare anche Olama Perché c'è un'immagine Da scaricare Con un Come dire un modello Già precaricato Per il completamento Del codice sorgente O la chat Dove si chiede banalmente Scrivimi Suggerisci il codice Cioè la chat libera Poi faccio Copio e incolla Prendo il codice Quindi questo Consentirebbe Praticamente con Docker con un container Di farsi un po' la Come dire La generazione con l'AI Ma con qualcosa in casa Quindi non c'è niente Che esca praticamente Vada su internet Per chi ci tiene particolarmente Alla riservatezza Per quanto Qui c'è tutta la parametrizzazione Per cui Olama l'ho provato in locale E richiede una macchina bella pompata Oh quindi Eh infatti lo so E immagino Perché giustamente Devi fare elaborazione Quello che faresti in cloud Secondo me Ecco l'ideale Sarebbe che Invece in un ufficio Magari venisse messo Su una macchina carenata Una macchina carenata Con Docker E magari tutti quelli Che in un ufficio lavorano Cioè Esponi Internamente Nella rete L'Http Del modello Con il suo url E Dopo ti Cioè ti diverti E Si in locale Ciascuno diventa A parte che ti devi Tenere attiva Non la macchina Però comunque il container Con dentro Cosa che gira Però c'è una documentazione Hanno fatto tutto Il servizio in locale Quindi Sarebbe interessante Provare A Come dire A metterlo in piedi Giusto per vedere Come funziona Che suggerimenti da Il top Mi dicono che è cloud Per Generazione di codice Tra l'altro Mi sembra che abbiano appena fatto Un aggiornamento Del loro motore Quindi Ok Allora andiamo Ad aggiungere Una action Tipo Generate Action Non so neanche io Come chiamarla Che sarebbe L'azione che una volta Invocata Prende il codice Lo copiati E ci fa vedere Lo screenshot Del codice sorgente Io qui Prenderei Action list Ok Dà l'action list Come owner Così nel momento in cui Viene distrutto Questo plugin Distrugge l'action list L'action list Distrugge anche le azioni Non lasciamo Memory leak Molto importante Però ecco Non è che dobbiamo andare manualmente Io qui Farò una roba molto brutta Che uso il width Ma Mi spiace Ma per me La leggibilità è tutto E in questo caso Non dovrei avere problemi di Generate Carbon Generate Ok Gli do questo nome Caption Allora Dovrebbe fare un sottomenu Quindi qui dovrebbe abbastare Questo Generate Con i puntini Perché è roba che devo Scusa Category Due punti uguale Carbon Aspetta Row write test Però Com'è che funziona questa roba qui C'era nella documentazione che diceva come funzionerebbe Però Stavo cercando di capire un attimo Row write test Row write test Replace Però mi sembra che ne metta tutti sotto lo stesso Add editor local menu Tollo user to run test Interessante la questione del memory leak Si rischia quando distruggi un oggetto dopo l'uso In questo caso Diciamo che Nel momento in cui installi questa action lì Se scarichi il pacchetto Non andresti a Recuperare la memoria di queste azioni Nel caso Lo carichi Lo scarichi Lo scarichi Lasci un memory leak E' chiaro che un memory leak di qualche oggetto Nell'idea di Delphi Per cui prima di arrivare a occupare Una quota importante della memoria Però Almeno in questo ambiente Come in C++ Come in certi linguaggi diciamo Non gestiti Gestire la memoria Cioè Lasciare la memoria locata E' una cosa abbastanza importante Qui però La cosa interessante E' che siccome noi deleghiamo L'action list Ci abbiamo creato un componente Che fa da liste di azioni E' un componente ma lo scriviamo a runtime Noi creiamo un'azione E gli diciamo Il tuo owner Il tuo papà E' questa action list Nel momento in cui gli diciamo questo Se andiamo a vedere la create Create owner La creazione da qualche parte Dovrebbe farci vedere Inherited Che c'è Siamo ancora Ecco nel componente Se l'owner è diverso da nil Owner Insert component self Cioè il componente inserisce Se stesso In una lista Di questo owner In modo che L'owner Quando viene distrutto Se ha degli oggetti Diciamo Se ha un owner Si rimuove dalla lista Qui si inserisce Qui si rimuove Ma il componente Se è owner di altri componenti Destroi components E li cicla E li va a eliminare Quindi Parte lo scioglio di lingua Vuol dire che io Designo un oggetto E mi sottoscrivo In modo che Se lui viene eliminato Elimini anche me Quindi non devo fare La free Di ogni singola azione Che vada a creare Perché li aggancio tutti A questi Quindi la loro vita Dipende da questo Se questo viene distrutto Nella free Nel destroy Va a distruggere Anche tutti gli altri componenti Però questo almeno Lo devo distruggere Lo distruggo Nel momento in cui Viene distrutto il plugin Nel quale viene distrutto Nel momento in cui Scarico il pacchetto E tutto rimane Rimane come dire Gestito Da questo punto di vista Carbon generate Boh Io provo a farlo così Per capire Come funziona Ok Poi c'è da gestire L'on update Cioè quando viene Quando è da aggiornare Ah prego Siamo qui Quando è da aggiornare l'azione Cioè li devo agganciare Un pezzo di codice Che dice Se questo comando E' abilitato oppure no Solo lascio un attimo lì Non execute Invece quando clicco Sul menu A tutti gli effetti Questo action list Ok Forse proprietà che devo assegnare Per dire che Lista deve finire Anche se Poteva prendersela Anche dall'owner Magari lo fa lo stesso No T action create owner Chiama l'innerite Non fa nulla Quindi Eh Quindi devo creare questi 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 eventi Non mi ricordo se sono Dei notify event Classici Execute Execute Non vedo Non vedo Non vedo Non vedo Content action On On Status Anche qui c'è Basic action Ci sono un sacco di Notify Event Ok Potevo anche fare F1 Guardare la guida però Quindi sono proprio eventi classici Come questo qui Quindi potrei dirgli Ok Questo lo lascio com'era Che già l'ho implementato Content menu click Allora Non update Lo lascio un attimo lì Qui gli do L'evento che ho già predisposto Per quel tipo di azione Per quella Per il menu Per il click sul menu E così rimane così Quindi Poi lui che va a fare Oh Che bello che mi hai massimizzato Non è come luminoso Passare da una cosa all'altra Qui crea le azioni Quindi fondamentalmente Inserito dopo Menu Cut the bug Menu section Ah questa è una costante Che già c'è Ottimo C Add menu Quindi io devo posizionarlo Scelgo un menu Già esistente Ma delle costanti Che mi danno il nome E riferimento Register action list Ok Devo registrare l'azione Quindi aggiungo le mie azioni Faccio Local menu Register action list Registro la lista Gli do il mio menu category Inserisci dopo C menu Come si chiamava C Add menu Editor menu Cut Debug Debug Cioè doppio Ah perché c'è Debug e Debug Cioè c'è la categoria Debug E poi c'è la voce di menu Debug Dentro Debug Perché è quello col tasto destro Quindi c'è Debug E poi ci sarà un Debug O qualcosa del genere Che poi esatto Sono tutte elencate Debug Debug Che è un Id Quindi non ho idea poi di come sia Di dove si trovi Ma poi andiamo a vedere Se ci interessa spostarlo Quindi l'abbiamo registrata Metto registrare da true Menu item Check da false Ok Qui lui sta registrando Un menu che sta attivo Disattivo Ci dovrà fare qualcosa Sulla destroy Quindi adesso Faccio un po' di refactoring Allora Questa è la via maestra Allora Diciamo che questa roba qui Non volendo buttarla via Che voglio fare un po' di pulizia nelle cose Perché c'è troppa roba in giro Me la tengo un attimo Me la chiamo Context Menu Pass Così Sta Sta lì fuori Allora Tiro via Così Via Allora Facciamo una cosa La chiamiamo Come la chiamiamo La chiamiamo Attach Register Register actions Wire actions Mi piace di più Unwire actions Che poi non sono solo le azioni Ma va bene Comunque Poi questo lo rinominiamo Quindi Facciamo La create Qui ci mettiamo Wire action Wire action Ok Facciamo anche Unwire E dopo andiamo a vedere come si fa Quindi questo lo chiamiamo Gli cambiamo nome Lo chiamiamo Le azioni Generate Ok Quindi lo chiamiamo Handle Generate Action Execute Quindi Gestisci Generate Action Execute E Glielo passiamo Qui sotto dove c'è il codice Lo rinominiamo Quindi questo Diciamo che Todo Da Verificare Non so se continua a funzionare Come dovrebbe funzionare Ma fin qui dire Diciamo che ci siamo Questo non so se va gestito così Diciamo di no Context menu no Context menu Non Non Lo devo memorizzare Abbiamo fatto un po' di prove Tutta questa roba Non va più Non serve più VCL menus Non serve più Non so se compila Perché manca Si ok Manca Un uso del metodo Wire action Wire action vigorsol Come si dice Quindi wire action vigorsol Ci sta la 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 cazzatina Scusate la battuta Ma C'ho anche il meme Da far vedere Quindi Perché 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 Questo programma Fat in Delphi Che con Schia Fa vedere Fa vedere Degli sticker Di telegram Quindi quando voglio Lanciare Uno sticker Tipo Tipo Lo sviluppatore Che apre i suoi chakra Il tastino L'applicazione parte Allo sfondo Trasparente Quindi Lo sticker Gira In primo piano E mi compaiono Nella live Ma è solo Che è arrivato l'aiutante Se avete bisogno Di chiedere È tutto posto È tutto posto? È tutto posto? È fatto spesa? È comprato tutto? Mi piace quando mi osservo in maniera Come va? Che cosa da dichiarare? Che cosa da dichiarare? Per salutare? Oh Non troppo eh Non troppo entusiasmo eh Non troppo entusiasmo Gattone Va 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 Ciao Mezza C Ben Bentornato Perché non Dio Aspetta che mi ricordo No Non mi ricordo Rischio di fare una gaffe Quindi Cavolo non ho l'audio Io però l'audio ce lo dovrei Ce lo dovrei avere Quindi Almeno vedo la barrettina che va su Nessuno mi ha detto niente Quindi Comunque ben arrivati Tutti In In live Dicono Audio ok Quindi incredibilmente Per una volta non è colpa mia Attenzione C'è un'icona secondo me sulla Sulla finestra Questo intanto si adagia Quindi Allora qui l'abbiamo agganciato Quando è che dobbiamo sganciare questa roba qui? Sulla destroy Lui va a fare la free E la va anche a registrare Quindi dovrò fare anch'io Qui sulla destroy Dovrò dire Prima di fare questa cosa Schiancio Faccio questo unwire Che secondo me poi è una riga sola Quindi non c'è neanche bisogno di farla Devo andare A fare questa roba qui Cioè Prendere Allora Devo intanto questo registered Allora If not A me piace più Invertire la condizione In modo da scrivere il codice Non che va verso destra Ma Dall'alto verso il basso Che è meglio Quindi se non abbiamo registrato il nostro menu Usciamo Perché altrimenti rischiamo di fare dei danni Allora If not Support Come si chiama Quel Vabbè Questo Oddio Sorry Ah è vero che ci hanno lo shortcut in comune Ecco perché non Non funzionava Allora Faccio anche questa roba qui Eh Non li posso usare Perché c'ho un C'ho un tool Che usa le stesse Allora If not support Exit Però E' anche vero Che dovremmo Dovremmo in qualche modo Non averne anche questo Di positivo Però insomma Sono tutti i casi limite Però Facciamo che se noi facciamo le cose controllate Siamo sempre sicuri che Lui cosa fa Va a prendersi il suo Local Menu Quindi Local Menu Editor Services Get Local Menu Local Menu Unregister Action List Deregistriamo Quindi Sganciamo praticamente da l'IDE L'Action List Perché Tarrabbi Ah Vuole il nome Ok Ah quindi gli ho passato l'oggetto Ma poi lui va con il nome Ok Allora non mi piace Questo è definito come resource string Perché mi dà idea di una cosa che sia Questo non è in realtà una resource string Ma un const Perché Questo è un E' un ID Adesso lo esplicito anche Perché sennò Sembra che sia una caption Uno la va a cambiare Oddio E' vero che se la cambia L'importante è che sia sempre coerente Però Voglio che sia chiaro che questo è un identificativo Univoco Del nostro menu Che poi viene usato anche per deregistrarlo Ok Quindi questa roba c'è Quindi lui Aggancia Sgancia Crea l'action list Crea l'azione La va a registrare Mette register a true Ci manca Cosa ci manca? Il fatto che quando clicco Lui debba fare qualcosa Tipo Write Replace O Add Replace E' quello che mi interessa di più Perché probabilmente va anche a If Begin Write Then Replace Line And Write Ma in realtà poi questo io l'ho già L'ho già implementato Perché secondo me l'implementazione va bene questa Allora Qui Usiamo la solita scrittura Così andiamo Che poi anche qui Potremmo fare Vabbè va bene così tanto I pattern vanno rispettati Non c'è nulla da fare Quindi Ok Usiamo questa scrittura Editor service Lui prende la top view Prende l'edit block E io scrivo il blocco selezionato Mi aspetto che qui non ci arrivi A meno che Non ci sia del codice Da Quindi Io adesso farei una cosa Farei un bel build E poi Proverai a installarlo E vedere che cosa Che cosa scoppia Anche in questo caso Abbiamo la Abbiamo il meme Comment fix Boh Quindi abbiamo il meme Per lo sticker E qui Build quindi va Per cui potrebbe crollare tutto Appunto Quindi No Questo sono io che sto crollando Allora Proviamo a installarlo Vediamo se scoppia tutto Andiamo sulla fiducia Al massimo darà un'eccezione Ok Quindi Già dovrebbe essere installato Quindi se io prendo questo pezzo di codice Clicco il tasto destro C'è un generate Quindi questo è il mio Doveva stare in un sottomenu Però forse devo crearlo io Selected text Però sta catturando il testo Ok Quindi questa è una via molto più comoda E pare non rompere le scatole con Cioè è meglio che andare a infilare delle voci di menu E' meglio che io gli dica Queste sono le cose da fare Quindi lui Guarda le azioni Cioè i comandi che io voglio supportare E in base ai comandi Mette le voci di menu e le aggancia Che ha un suo senso ecco Da questo punto di vista Quindi A questo punto Secondo me qui Ci manca un pezzettino Ovvero Ho un update Un execute Row write test Caption Category Qui usa questa Questa forma qui Che io non ho usato No l'ho usata Category generate La category La category On category Fammi vedere se forse è qui che Row write menu Category Come faccio a fare un sottomenu Bisogna che mi rileggo Quella Quella help qui Allora lui dice Registra una nuova action list Category Che sarà usata Quando il pop up menu E' creato Una lista delle menu categorie Può essere trovata sopra Che inizia con Ed menu category Ok Queste sono quelle già esistenti Quindi se io Cerco questa stringa qui Ed menu Cut Identify Breakpoint Ho delle costanti Quei menu che sono già Quelli presenti in Delphi Esatto questi qua Ok Quindi la scelta di metterli proprio Debug E' una scelta totalmente mia Ma va bene Verrà creato Tre volte che Viene utilizzato E chiamerà L'action on update Prima di essere visualizzato Quindi Non update E' quell'evento Che io non ho segnato Che mi consente di dire Prima di creare il menu Lui lo chiama Io gli posso dire se l'azione c'è Non c'è Se è visibile Non visibile Se è abilitata Diciamo che al momento È sempre abilitata Dovrei forse controllare Se c'è del codice Oppure dipende da quello che deve fare Per creare dei sottomenu Devi usare un category name Per ogni azione La submenu category Sarà il parent Con un punto Seguito da qualunque nome Ad esempio Se la categoria Per il parent menu È Parmenu La submenu category Sarà Parmenu Sub1 I sottomenu Devono essere aggiunti All'action list Come azioni successive Al loro parent Se Un submenu È Prima del suo parent Non verrà Mostrato Ok Quindi io però Ho un'azione Da creare Anche per il menu Principale Però se non gli aggancio L'execute Fa solo da Raggruppamento Insert after Default value È vuoto L'action list Verrà messa Come primo elemento Se L'action list È registrata Dove essere Deregistrata Quindi se io ho capito bene Quello che lui mi dice Io dovrei fare Questa roba qui Dovrei creare Un'ulteriore azione Allora Che poi qui Faccio una cosa Ancora più sporca Evito anche la variabile Cioè una roba Una roba fotonica Una roba che non si può E quindi Creo un'azione Per questo Che è il menu Che mi serve E poi faccio Un'azione Che si chiama Carbon Come caption A Carbon Come categoria Carbon Su un update Su un execute Non fa nulla E la metto come prima Perché lui dice Deve venire prima Poi la carbon generate Con caption generate Che è Nella categoria Carbon.generate Non update Al momento Non la vado a gestire Execute Action list Quindi nel momento In cui io faccio La build Ok Quindi Facciamo Facciamo gli scongiuri Lui Lui Quindi Mi Disinstalla Il package Lo compila E lo reinstalla Vabbè Adesso ho fatto install Ma è uguale Infatti Bisogna stare attenti Perché a volte Io avevo un editor Avevo un plugin Che lavorava sul sorgente E io volevo testarlo Nel momento in cui Cioè Praticamente Facevo un suono Quando la build falliva Solo che se voi avete Il package aperto E fate build Non lo vedete mai In funzione Perché prima della build Se fate la build Del package Lui lo scarica Da lead Lo compila E lo ricarica Quindi Non vedrete mai l'effetto Però Quindi L'ho reinstallato Vediamo se compare Carbon Ah Non l'ho messa Abilitata però Però Dovrebbe aver creato Questo sottomenu Infatti Qui c'è un enable sempre true Anche qui c'è un enable sempre true Ah Giusto Perché enable è false Perché Questo non ho messo enable da true Ma lo è Perché c'ha un execute Cioè Se io creo un'azione Quindi un comando da eseguire E non gli do l'execute Compara disabilitata Qui Questa siccome non fa niente Quando ci clicco Fa solo da sottomenu Normalmente è spenta Perché voi qui potete mettere enable Potete metterla visible Potete decidere Che cosa farne Quindi devo forzare L'enable da true In modo che Pur non avendo Un'azione Non Non compaia Per così dire Questo lo metto all'inizio Che Siccome è una cosa uguale Per tutti Anche le altre in realtà Quindi Potrei anche metterle Guarda In ordine Così siamo già Che anche un po' più pulito Questo Questo avendo non execute Funziona lo stesso In teoria Quindi Faccio un bel Un bel build Lui scarica Compila E ricarica Perché siccome era installato Deve essere reinstallato Riproviamo No Forse non l'ha fatto in automatico Forse me l'ha sganciato Forse non funziona Forse me l'ha solo sganciato No Quindi non era questo E' ancora E' ancora spento E' ancora spento Aspetta Perché ci hanno aggiunto Anche un flag Disable If no handler False Disabilita Se Non ha un handler False Potrebbe essere questo C'è un qualcosa Di automatizzato Che spegne nel caso in cui Oh Adesso è attivo Nell'esempio E' sempre funziona E' sempre attivo Perché fondamentalmente Non gli hanno Gli hanno messo un execute Che probabilmente O fa qualcosa Non fa nulla Ma io cliccando qui Non voglio fare nulla Quindi voglio solo fare Sotto menu Per questo qui Che è cliccato Fa vedere Selected False Che poi Scusa eh Ma vai almeno anche A capo 13 10 Oppure Più Se vogliamo essere Ligi Line break Mettine ecco un paio Ho Sbagliato scrivere Così si vede un po' meglio Qual è il Quindi lui Adesso è caricato Quando fate la build Lui scarica Compila E se era ricaricato Lo ricarica Quindi adesso Lo vediamo aggiornato Quindi se prendessi Questo pezzo di testo E facessi Carbon generate Vedo Esattamente Ho messo un po' Di ritorni a capo Così non sta Vedo esattamente Il codice Che ho selezionato Dall'editor E fin qui E fin qui Diciamo che Diciamo che Ok Abbiamo fatto Lo step Minimale Adesso dobbiamo fare Lo step più difficile Che è Tirare fuori Questa roba qui Però questo esempio È stato molto utile Quindi Conviene È una cosa Che faccio sempre Più spesso Ovvero Qui poi ci sarebbe Nell'editor Tante cose Di andare a vedere Creare un Un buffer Per scrivere Un editor di codice Che abbia O meno L'undo Fare un replace Generare un nuovo codice Infatti Un'altra cosa Che volevo fare Come esempio Come Pensare in una riga Di separazione Basta mettere caption Bene Enable Puoi lasciarlo true Se metti caption Si Lui ti fa Ti fa Un menu È un'azione Diciamo che Non fa nulla Però ti fa il trattino Si Ti fa il separatore Una convenzione Che poi ci sta L'altra cosa Che sarebbe carina È aggiungerci Un'icona Però Dovremmo Creare un componente Image list Caricarci al volo Cioè Questi sono componenti Che normalmente Noi trasciniamo Come dire Runtime Quindi Per dire Sono componenti Allora Facciamo lo step successivo Ovvero Io devo richiamare Quella pagina Un glifo È vero Qualcosa Però il glifo Ti compare Proprio sul testo Mentre l'icona Sta leggermente Da parte Quindi Cioè se qui metti Un glifo Lo vedresti Se lo metti all'inizio Lo vedresti qui Invece che qui Quindi Oh sì La glif Si chiama glif Anche qui Cioè adesso Cioè Bitmap Ce ne sono vari tipi Quindi hanno Steso un po' questa cosa Mi pare di capire Ecco Una cosa che non ho provato a fare È questa Cioè dire Ok L'abbiamo scaricata Installato più volte Sulla registrazione Abbiamo fatto Unload Sì no Unregister Ah sì L'abbiamo fatta qui Quindi dovrebbe anche scomparire Nel momento in cui Non viene più usato Devo fare la prova del 9 Ovvero Chiudere tutto E non succede niente Non compare da nessun'altra parte Quella voce di menu E chiudere Delphi Se Mi tira fuori un errore Vuol dire che c'è stato qualcosa di Di fallace Invece Sembra Sembra Tutto ok Ok Allora vado a prendere il sito CarbonNow.sh Anzi Avevo da qualche parte Review anche Delphi Quindi così sono Sono tranquillo Beh 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 Quindi Mio repo Avevo messo Questa roba qui Esatto Una specie di sintassi Adesso non vorrei poi formattarla Code CS CS Allora Aspetta che faccio una prova Di questo tipo Ovvero Mi vado a prendere questa parte qui code test, ci sono anche però il linguaggio mi viene da dire vediamo allora chiamo questo e metto test ok il linguaggio dov'è? true wavc blurb non l uguale auto ok ci aggiungo l uguale pascal e già andiamo un po' meglio ok c'è l'obiettivo allora passando questi parametri io vedo che questa roba viene mostrata in questo modo potrei customizzare tutto però intanto vado a chiamare il tool c'è queste sintassi dell'embedding ok che cosa fa? ti va a creare quella diciamo quell'url che ti fa generare l'immagine che tu metteresti dentro il tuo blog ad esempio vuoi fare un pezzo di codice passi il codice quindi c'è il parametro code dove dentro c'è il codice chiaramente deve essere un snippetino un po' piccolino and l uguale pascal è praticamente il linguaggio che io passo in modo da essere sicuro che la sintassi sia corretta ci sono tante altre opzioni sarebbe interessante come dire stenderlo con un editor o con qualcosa del genere queste cose qui però già sarebbe sufficiente fare una roba di questo tipo cioè dire ok mi riapro il mio carbon for delphi e dico che invece che fare questo selected allora facciamo così ce lo teniamo un attimo anzi faccio il solito trucco barbatrucco ovvero show code allora questo lo prendo, lo copio, lo incollo lo incollo qui e questo lo chiamo show message pass ok uno snippetino lo lascio lì allora prendo questo e dico ad esempio un primo step potrebbe essere prendiamo un browser e lo apriamo con il codice selezionato sicuramente dovremmo fare anche un'altra cosa fare un encoding del codice perché se noi passiamo degli spazi li vedremo beh gli spazi non sono neanche un grosso problema ma se abbiamo dei minori e dei maggiori è impossibile che li vediamo senza fare anche un po' di encoding quindi stavo guardando allora ok controllavo no niente guardavo allora ok quindi qui potremmo fare una roba bella semplice cioè chiamare la shell api per l'apertura classica di un url non mi ricordo bene come si fa però potremmo fare una roba del tipo facciamo così procedure show code così divide e ti impera come si dice quindi qui gli passiamo la stringa e la visualizziamo così ci teniamo al momento quello che c'è già allora vado a chiamare il nostro editor services adesso torno sul sul code only così tanto qui stiamo cercando di portarci al visuale ma siamo fondamentalmente sul sul codice perché dobbiamo mettere roba che funziona grosso modo nel codice potrei chiamare il browser di default e fargli aprire quell'editor qui sopra quindi come faccio allora mi metto aiuto anche questo è impegnato abbiamo preso tutti gli shortcut questo tool questo tool qui non me ne ha lasciato uno va bene lo lascio a parte che c'è anche un menu forse che posso usare toggle bootmark 0 ok così ce l'ho e go to bookmark devo usare non posso usare lo shortcut allora abbiamo shell 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 api quindi un'altra unit che possiamo utilizzare dove ci sono che poi non so se si chiama così esatto win api shell api il prefisso ce lo mette di default ma meglio essere più specifici questa roba che cos'era secondo me questo non mi serve oh sì no l'avevo messa forse per vedere qualcosa ah sì perché è usato da è usato per perché c'è il metodo da implementare per l'interfaccia ma ok show code perfetto allora handle generate qui mi faccio un prendo questa roba prendo l'edit block e faccio show code di edit block punto text in realtà potrei fare show code in browser perché magari potrei avere più versioni tipo show in editor cioè farlo vedere direttamente nell'ide o quello non sarebbe male dovremmo però integrare la parte del browser o in browser ok in browser grazie che è meglio quindi show code in browser così in questo caso lui si prende magari creiamo uno switch creiamo qualcosa del genere questo potremmo incapsularlo adesso ho capito perché lui fa nell'esempio precedente usa un campo secondo me sarebbe anche più comodo facciamo tanto noi lavoriamo solo nell'editor quindi farei una roba del genere chiaramente lo chiamo f perché è un campo registered allora sul wire se non esce exit facciamo così usiamo direttamente il campo si può ma si può editor services get local menu registrare da true quindi così altrove ci basta ci basta rimuovere tutti questi support tanto l'abbiamo fatto all'inizio e quindi non c'è bisogno di fatto una volta di farlo tutte le volte quindi facciamo un semplifichiamo così poi anche qui potremmo mettere un get code e saremo anche più anzi facciamolo così un wire action function get code così così se abbiamo modi diversi di recuperare questa cosa serve ci mettiamo dentro questa bella roba qui adesso mi copio tutto ctrl shift c ok quindi abbiamo invece che far vedere chiamare un'azione edit block così se abbiamo modi diversi di recuperare il sorgente possiamo il pezzo di cose selezionato qui ovviamente facciamo show coding browser get code e lo facciamo vedere nel browser qui abbiamo la roba del browser ok non sto a ripetere queste robe qui anche qui sull'unwire non sto a fare queste robe qui ma tiro via questa roba wrap senza chiedere allora questa c'è non ce ne deve essere nessun'altra perfetto dopo si usa solo il il menu originale quando vado a rimuoverlo not registered eccetera quindi ok tutto a posto per cui tornando a ho rifattorizzato un po' per evitare di scrivere questa mille volte tenermi il tenermi riferimento e quindi posso semplificare show coding browser quindi qui è dove dovremmo fare intanto una delle prime magie quindi facciamo una shell execute che è un api di windows qui abbiamo a disposizione un handle vabbè non siamo costretti a indicarlo qui mettiamo open file name ci mettiamo il nostro url url o forse i parametri dovremmo usare forse dobbiamo mettere i parametri qui show cmd dovremmo mettere un flag tipo show normal show maximized sono dei flag che usa windows per dire quando visualizzate non c'è nella guida perché fa parte dell'api se vado a vedere ad esempio win api windows che probabilmente è quella che mi serve si in realtà è un po' corposa quindi fidiamoci c'è questa costante che praticamente dice come la finestra va mostrata poi con cotto il click normale show normal minimized maximized quindi sono tutte le modalità con cui dovrebbe apparire e per dire che il browser deve apparire con le sue dimensioni di default dovrei farmi un attimo una ricerca aprire l'url con shell execute in delphi è forse l'esempio più siccome la mia memoria fa fai fai cagare open url perché in tutte le finestre di about si usa questa roba qui in delphi c'è il il sito di softcom che è un'azienda tra l'altro che fa prodotti sviluppati in delphi e anche un blog dove spiega diverse cose è una funzione che fa diverse cose handle url quindi c'è shell api path to open esatto se io gli dico open e gli dico un pitchar a un percorso e gli dico qual è il path da aprire lui praticamente prende il path e vede che è un txt e lo apre con il programma predefinito i parametri special execute sono questi qui la directory corrente e tutte le altre cose ancora più esempi l'url quindi 0 open pitchar con l'url nil nil show normal 0 open url nil show normal perfetto sono un cavallo proprio sono un cavallo ragazzi nonostante non abbia dormito allora il nostro url come diventa carbon carbon url che poi in realtà dovremmo metterlo esterno perché potremmo usarlo anche nel nel browser però possiamo poi sempre rifattorizzare allora come diventa diventa così ok però chiaramente qui al posto di test ci va un segnaposto per la nostra stringa e tra l'altro mi devi ok abbiamo sbagliato a metterlo quindi qui al posto dell'url dovremmo usare la format ok quindi dirgli carbonurl è il nostro formato ti devo dare i parametri cioè quello che finisce nel codice ecco qui se gli passo il codice diretto secco nudo e crudo penso che lui che vuoi ah perché poi devo castarlo anche a pitchar facciamo così var l url uguale del punto uguale uguale a questa roba qui facciamo una cosa in due step giusto per non complicare troppo la scrittura va castato perché le funzioni di windows richiedono un puntatore quando lavorate con l'api di windows l'api di windows sono importate dentro una unit che importa l'api c'è l'execute che di default va su quella white char quindi carattere tipo unicode doppio byte poi c'è quella ansi eccetera eccetera questa è l'external però da qualche parte adesso c'è la dichiarazione come dire official eccola qua trattandosi di api di windows avete handle distanza long pointer a white string c'è quindi un puntatore lungo a una stringa di caratteri quindi qui dovreste passare un puntatore a un buffer che contiene la stringa terminata da zero la cosa carina di delfi è che nascendo quasi per questo scopo se voi fate un cast di qualunque stringa puntatore a caratteri delfi cosa fa prende questa stringa alloca un buffer ci copia dentro la stringa ci mette uno zero prende il puntatore lo passa alla funzione e poi ve la del loca cioè fa tutto in automatico quindi crea al volo la stringa come dire null terminated in modo che l'api la possa invocare senza che voi dobbiate fare un var p allurl get mem o roba del genere oppure alloc mem e andare a locare fare un string copy copiando la stringa dentro cioè fa tutto in automatico però dovete castarlo perché siccome qui si aspetta un puntatore a una stringa dobbiamo usare questa forma o pchar o p white chart tanto se cliccate qui scoprite se meno ma forse embedded forse non esatto non lo vediamo è del compilatore però questa è un alias per p white chart lo vediamo lì scomparso quindi chiaro che prima gli passavo la stringa diretta lui non fa questo tipo di ragionamento cioè quando vede la stringa fa un puntatore a carattere se c'è una variabile essendo una variabile tipo stringa va castata però lo fa tutto lui il mestiere qui dobbiamo passare il nostro codice però il codice andrà encodato cioè perché se io passo un codice fatto così lo passo probabilmente non mi viene accettato oppure mettiamo che ci sia una E come fa nell'url se metto una E non capisco più la E del codice rispetto alla E che fa da separatore di parametri quindi dobbiamo fare un encoding questo lo possiamo fare perché abbiamo system aspetta che net encoding perfetto grazie perché non mi sarei mai ricordato ecco questo go to bookmark fatto così è veramente scomodo però se usi i tasti ho il programma di zoom che poi non funziona più quindi qui dovrò usare cioè il codice va bene però dovrò usare un t html encoding direi no scusa t url encoding cioè proprio un url encode url dovrebbe essere lui encode query encode form encode value dovremmo avere un encode di un qualunque input string array di byte abbiamo un encode direi che quello della stringa va bene pare che poi lo vediamo e se non funziona ce ne accorgiamo subito quindi questo formato è corretto chiama il sito apre il browser predefinito a quell'url passa nil directory corrente quindi tutto rimane a default l'url viene formato prendendo questo indirizzo e mettendo il codice qui il codice però va encodato in modo che al posto della e-commerciale ci venga il classico percentuale percentuale 20 al posto degli spazi cioè che sia interpretabile che non venga non ci si confonda con i valori che devono essere stampati così e separatori dovremmo vederlo aprirsi con il codice selezionato poche parole quindi questo dovrebbe essere un se fa questo direi che il traguardo lo dovremmo avere abbastanza raggiunto allora lui dovrebbe essere già installato se io prendo questa roba qui ok faccio tasto destro carbon generate che lusso l'abbiamo fatta meno abbiamo ottenuto qualcosa chiaramente non dovrà essere un codice molto lungo però it works quindi in questo modo io mi faccio un bel salva con nome dovrebbe salvare una pagina web questo è testo pensiamo fosse un png magari c'è modo di fargli generare al volo anche il png qualcosa del genere non lo so ci dovrei provare proviamo un altro pezzo tutto questo pezzo qui però forse è un po' lunghetto è vero che quello fa uno snippet però diciamo il nostro plug-in dovrebbe qualche modo trovare il modo di ma comunque l'url vedete che qui dove inizia il codice vedete che c'è uno spazio ci sono più 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 3d più 2c quindi questa è la parentesi che ovviamente viene vengono tutte decodificate virgole punti virgola in modo che non vadano in conflitto o comunque lo vedo lo vedo perfetto quindi se fosse se fosse che riesco a fargli un rendering in png ma dovrei vedere queste testo magari c'è modo anche di di fare un embed col png c'è un format qui c'è regia chiaramente qui potremmo anche larghezza auto impostare alcuni valori come i pixel le dimensioni il font magari il font lo prendiamo dall'editor c'è roba di questo tipo per cui ci divertiamo un po' a mettere dei parametri il tema material cioè potremmo anche dare all'utente la possibilità di configurarsi queste robe blurred pixel true language auto io ho messo language pascal se riuscisse a produrre anche il png io sarei ancora più contentino perché dico c'è la export però lo gestisce sul click però come fa come fa gestire il click quando ah JSX export png tra l'altro c'è anche il sorgente di questa roba quindi questo è open source quindi noi possiamo andare a vedere source possiamo andare su github e andarci a vedere ad esempio come hanno realizzato magari proviamo subito la risposta snippets import button fammi cercare no scusa export come si chiamava export menu JS forse ci arriviamo png on click and export blob quindi questa è fatta con react c'è il componente quindi sull'un click gli aggancia la funzione handle export che però non vi ha qua export image format eh però se mi fai vedere user sync callback export image format lo prende da qui fa una una callback con questo exp che sarebbe export image export menu eh qui però che è dove fa la chiamata from actions eh hack c'è modo di andare a pescare mannaggia mannaggia poi ci sono anche diversi client bisogna dire quindi devo tornare dove ero prima che secondo me c'è scusa questo da dove da dove arriva secondo me è qualcosa di use local storage è qualcosa di collegato ok lui fa una chiamata però cosa passa all'url per avere un handle export id export color server color ci sono diversi parametri quindi keyboard listener handle export file name and input current value quindi passa il file name questo export image usa questo async callback quindi dovrei cercare questo export menu in realtà che lo esporta da qui export menu certo cerchiamo di trovare come è la parametrizzazione export team e export size ok lui la disegna ma poi questa produce solo il blob c'è un parametro che regola il blob no nell'url e tu come fai a fare language name update language cioè tu come fai a fare a fare il devo scoprire come fare il png che sarebbe interessante perché se io riuscissi a fare function to png però mi sa che lo fa dritto in locale draw node si disegna direttamente nel nel data url diciamo che questo è un attimo da down to image si c'è una conversione sulla pagina web direttamente in png stampata per avere un quindi non non è proprio però ecco io chiaramente posso sempre poi invocare anche l'editor completo cioè voglio avere tutti i comandi di disposizione io potrei dire tolgo questa parte tolgo la parte embed io lo ricompilo lui richiama lo stesso url senza embed ok quindi prendo questo pezzo di codice faccio carbon generate fa la stessa cosa però è chiaro che sono quantomeno all'interno del non è quello embed ma è quello con tutto si diciamo che in questa pagina ci sono dei parametri un file name quando clicco fa un rendering al volo dentro la pagina non so se c'è modo di farglielo fare direttamente con l'embedding però quello è una parte export allora c'era da qualche parte qualcosa legato al tweet copy to clipboard image image ah però fa sempre il copy dell'immagine generata quindi non è c'è però questo upload to image ur upload però fa sempre il rendering del blob fammi vedere che è un servizio dove tu praticamente condividi carichi un'immagine ti dà un url e quello lo puoi condividere per vedere img ur api vabbè riutilizzerà la parte che renderizza sul window open link axios data split cioè usa comunque sempre il blob che ha prodotto in locale con la data e fa un post fa un post a questo indirizzo con quella fa un post a questo sito mandando i dati dell'immagine che è quello che esce dai da blot to blame image response type blob client get mg url reprise dovrei provare a capire se option blank option twitter url larghezza top left status uguale 1 che cosa vuol dire fammi vedere fammelo provare che non si sa mai se magari può essere qualcosa che end status uguale 1 no è cambiato una mazza non cambia nulla quindi probabilmente non ha a che fare no lì dovrei esplorare un pochino quello ci sta un'altra cosa che potremmo fare non so se facciamo il tempo a farla ma ci proviamo e questo è di raggiungere un form non ha framework assegnato noi sceglieremo chiaramente qui mi dice se è un package il package è cross platform però ti come tu stai leggendo un form vuoi aggiungerlo a vcl solo windows è della nostra scelta perché stiamo parlando di un qualcosa che va nell'idea di delfi oppure cross platform e quindi la vuoi far monkey dovremo fare una scelta normalmente è la vcl però possiamo cambiarla anche in corso d'opera se noi passiamo allo standard dove c'è il design tra l'altro lo vediamo non mi ricordo dove però c'è un platform qualcosa legato a sul form sul data module c'è questo tipo di impostazione il form è quello della vcl quindi qui potremmo anche creare una finestra che non andiamo a visualizzare nel momento in cui dobbiamo vedere il nostro web browser diciamo che è bello che è morto però abbiamo edge edge è un po' da configurare non è proprio la cosa più facile che ci sia in realtà potremmo provarci ma no internet explorer ormai non esiste più quindi non c'ha molto senso e in alcuni casi non è neanche come dire non è neanche più supportato ce la faccio scrivere web browser però potremmo mettere anche come engine c'è una modalità e only noi potremmo dirgli vai edge if available se no vai su internet explorer il concetto è che non supporta gli stili non supporta praticamente nulla e quindi diventa un po' difficile magari fargli visualizzare quel sito però vediamo un attimo facciamo una prova ok mettiamo UI forms come lo chiamiamo code snippet o preview o se no lo chiamiamo proprio vabbè snippet vabbè tanto poi cambieremo il nome quindi questo diventerà no questo è il browser scusate questo è il form diventerà carbon snippet form giusto perché non ci siano delle ambiguità questo lo chiamiamo web browser adesso lo faccio massimizzare la faccio molto semplice così metto un bel metodino qui questo assolutamente non deve starci procedure anzi function no procedure tanto non ho un show url o navigate come preferite url di tipo string così abbiamo un metodo qui vado sul web browser e gli dico navigate url giusto per non esporre il web browser all'esterno obbligatoriamente ma avere qualche meno un metodo qui potremmo farci anche qualche helper tipo class procedure create and show create navigate passando l'url ma vabbè facciamo un attimo una cosa un po' più allora qui altf11 andiamo a referenziare il nostro form quindi lo aggiungiamo all'elenco delle unit che ci servono cosa andremo a fare facciamo un nuovo metodo procedure show code in id o in delfi così è chiaro che tanto c'è un browser lo stesso per cui non è che quindi facciamo un bel metodo lo implementiamo e qui cosa andiamo a fare andiamo a dire var andiamo a creare una nostra finestra nostra t carbon snippet form create senza un owner alla fine la andiamo a distruggere perché non ci serve più e nel mezzo facciamo form navigate chiamiamo il nostro metodo dove dovremmo passare l'url l'url lo generiamo sempre allo stesso modo quindi faccio un attimo un copy ancora del codice poi dovremo magari fattorizzarlo un po' meglio lo mettiamo prima navigate quindi generiamo l'url facciamo navigate la facciamo navigare poi facciamo show model in modo che stia visibile e poi quando la chiudiamo torniamo al nostro torniamo al nostro id vediamo se allora qui commento questa implementazione sarebbe bello avere due azioni get code show in delphi avere due implementazioni dove con un menu ti apre il browser ok adesso vuole aggiungere i package per edge per la vcl mi ha dato un warning perché mi dice io l'importo direttamente nel package in realtà quello che dobbiamo fare esatto così non lo fa più mi dice che c'è un metodo inutilizzato va bene allora vado a pigliare il costruttore con tanto di commento tanto non è detto che poi funzioni ma ci proviamo generate la finestra c'è sta provando a caricare qualcosa ma ovviamente va in errore perché sta usando sta usando internet explorer quindi non ce la fa far vedere il internet explorer ormai è diciamo decrepito e quindi dovremmo provare a mettere un edge only però dovremmo scaricarci la libreria di edge specifica non basta averlo installato perché non è più un ah no non posso fare la run di un package giustamente non è più come dire una libreria c'è bisogna averlo installato in sistema ma potrebbe anche non esserci il browser installato noi dobbiamo avere edge anche senza edge qui secondo me ha fatto la navigate ma non fa vedere nulla mi sembra che si potesse scaricare tutto bellamente anche da qui edge edge browser demo edge to sdk import ed iders no quello è un po' vecchio quindi ah c'è un wrap antropic API del 23 ottobre quindi abbastanza recente non so che cos'è ma ve lo andrò a poi vedere mi faccio installare le librerie di edge agree in realtà forse dovremmo copiarle anche nel nell'ambiente c'è tutta la documentazione adesso era giusto per per capire perché finiscono in un percorso sono dei distribuibili quindi in questo caso non possiamo integrare il browser dentro l'applicazione che io sappia però sarebbe una bella cosa e quindi ancora non funziona perché dobbiamo andare nel nostro browser dobbiamo vedere un po' di documentazione ma è una roba abbastanza abbastanza easy in realtà shell for more details sì secondo me ce vado a vedere sul edge browser non c'è senza la t edge browser executable edge browser edge browser selected engine intent explorer edge edge user data folder non riesco a trovare la documentazione adesso la vado a pescare perché poi dovrebbe essere abbastanza aspetta però abbiamo anche il deployment deve essere compilato ok compilalo a parte che qui però noi dovremmo mettere una idea di delphi adesso che ci penso quindi quindi in realtà dovremmo sì andare ad aggiungere dei componenti diciamo feature feature files abbiamo anche la parte di edge probabilmente non la vedo rad server qui non la vedo universal windows platform sì in realtà dovremmo distribuirlo proprio con delphi dovremmo trovarci sì non è non è così lineare perché il problema è che dobbiamo ricercarci l'engine del browser quindi però come dire non abbiamo altri engine offline register as browser register dot target selected engine silent non abbiamo altre proprietà da poter da poter gestire sì qui ci abbiamo le nostre librerie perché se vado a vedere ad esempio qui sotto edge register targets è qui interessante perché questo è un package e quindi vorremmo legare questa cosa lì di delphi per cui diventa un po' complicato però scusa lì di delphi fa uso di maschere che integrano una parte web magari qualcuno si legge edge easy cop edge browser delphi id use the changes how to use the edge browser component in realtà potremmo fare anche questa cosa siccome gli possiamo dare allora qui c'è l'installazione ok manual installing ok devi scaricarti project configuration sì c'è da copiare questa loader però non è proprio il massimo drop compre navigate create 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 in maniera sincrona create view complete application events cache management potete dare data folder la migrazione dal componente standard c'è di tutto tranne quello che mi serve no in realtà c'è tutto però il problema è che qui c'è l'interfaccia duale tra internet explorer diciamo che il problema è cercare dovremmo trovare il modo di fare un embedding di queste librerie però scusa mi basterebbe una volta scaricato ho chiuso la cartella di prima eh sì ok dovrei andarla pescare sotto secondo me per funzionare dovrebbe essere sufficiente mettere la dll sotto la cartella dove c'è al momento almeno il allora non è qui eh dove era sotto redist esatto quindi 32 edge non c'è un edge qualcosa edge non lo vedo forse mi ha scaricato cosa ho scaricato scusate mi ha aperto quella cartella ma non ho capito che cosa mi ha scaricato però però dovrei install forse che faccio prima scaricarlo a mano intanto andiamo a scaricare da qui è una dll non è che sia il problema che non c'è invece un uno zippetto adesso intanto vediamo cosa ci va a scaricare perché runtime installer evergreen bootstrapper scarichiamo entrambi che può essere una cosa più questo fosse da è già installato giusto è vero che è già installato ok però dove è installato questo è il problema di fondo allora qui non c'è forse sotto microsoft edge però non c'è l'x86 proviamo a lanciare questo vediamo che combina vedi farlo vedere nel browser l'alternativa potrebbe essere trovarsi un qualcosa di microsoft edge webview e dov'è microsoft webtools non penso sia qua sotto dove è installato c'è poi scritto true nuget get it package forse questo è più downloads posso scaricare questo download package aspetta che forse l'ho trovato mi sa è una distribuzione non voglio un setup perché lo voglio come dire questo tanto è uno zippone benché vada il nuget eccolo qua build native qui ci sono tutte le dll che è adesso questo io se lo schiaffo secondo me sotto sotto qui parcadero studio dov'è che abbiamo messo il bpl no i file bpl sono sotto di default almeno sono sotto qui studio 0 bpl carbon from delphi vedi che non c'è proviamo vabbè se non va chiaramente bisogna un attimo bisogna studiare un attimo o trovare un'alternativa più che altro però infatti poi deve deve essere sotto secondo me dove c'è delphi non può essere sotto un'altra parte c programmi questo è un po' sì un po' un problema però diciamo che il problema nell'engine che non è proprio portabilissimo ecco per così dire allora bds dov'è qui sotto immagino bds.exe se incollo e faccio continua non è il massimo però è giusto per capire ecco questo è un po' l'obiettivo principale no non ne vuole sapere neanche qui neanche mezza non è che poi questo web browser edge only fa un detect adesso provo a usare direttamente l'edge browser che voglio capire se cambia qualcosa l'obiettivo chiaramente è visualizzare il codice qui dentro quindi che belli tempi quando bastava che fosse beh ma in realtà funzionerebbe forse anche qui perché poi è una dl mi ostino a lanciarlo ma non devo lanciarlo devo solo compilarlo adesso cresce tutto perché vedo che stavolta l'ho fatto cresciare stavolta è cresciato quindi se n'è proprio andato e quindi non ho non ho un qui verrei cazziato istantaneamente dal dallo sviluppatore in realtà si non ho può essere che però è strano il massimo dovrebbe dire che l'engine non c'è o dare qualcosa di questo tipo però può essere che può essere che si incazzi un pochino magari in realtà c'è modo di farlo già funzionare senza anche perché l'editor ne usa di di parti di codice quindi adesso crescerà ancora immagino sì quindi quello non gli piace va a caricarsi un engine che non è senz'altro quello corretto questo lo rimuovo da qui perché non va bene potrei rimuoverlo anche dai package non vorrei che poi il problema fosse che si trova più versioni di una libreria si carica quella diciamo che questa è sicuramente una parte da ah no era una cartella sbagliata dov'è che era il package qua c'è lo shortcut non mi scordo sempre di farlo BPL giusto per non avere delle copie in giro ci riprovo se cresce come dire quello era il massimo da questo punto di vista però in realtà probabilmente la cosa ideale sarebbe studiarsi i vari client di questo carbon perché questo carbon nel sorgente ci sono anche dei client provare linguaggi dove chiamandolo fa un c'è anche in italiano quindi ci sono creare un frammento salvato ci sono usare bisogna scaricare l'immagine espo vabbè qui c'è le istruzioni per l'uso però carbon no sh ci sono praticamente dei sorgenti dove fa vedere ci sono già dei plug-in previsto più code qui non ha messo forse il sorgente ecco questa non è una bella cosa perché è abbastanza easy da integrare vista la cosa diciamo che ci vorrebbe un browser che funzioni però se scoppia o lo provo in separata sede giusto per non riveliare sempre delfi per capire e qui c'è una complicazione doppia cioè oltre nell'applicazione l'applicazione in corrente è delfi quindi quella che avrebbe bisogno di ecco già la DLL in quel percorso non andava bene qui almeno non cresce però non fa vedere nulla quindi bisogna cercare di capire qual è la problematica target compatibile version top user data folder qui dove mettere i dati però c'è anche browser executable folder che dovrebbe essere dov'è la DLL qualcosa del genere e property bravo executable folder refresh to ok edge canary it does not set can contain environment edge runtime ah ottimo qui è dove c'è l'installazione quindi se gli do un percorso di questo tipo proprio schiantato nel codice al momento ma è sempre per provare dovrebbe se gli faccio un build il problema è che secondo me l'idea di delfi lo include lo utilizza già e in questo modo ne agganciamo un'altra e scoppia non mi pare che sia partito molto bene bene è ready as view control non effect initialize view the creation will fail if it does not set it the default for an installed version ci vuole un edge canary probabilmente ci vuole un edge canary o ci vuole qualche libreria niente il problema sta in questo questo oggetto è un motore va inizializzato forse la versione è diversa però 2 10 webview 2 include diciamo che dovremo un attimo studiarci come il webview va utilizzato perché aspetto ho preso le immagini giuste anche forse no può essere che non ho scelto l'immagine l'immagine giusta di runtime oddio non penso farà una grossa differenza ed è che è scomparsa la form subito perché lui ha fatto un unload del package ha scaricato anche il package corrente il problema è che se c'è un errore lo reinstalla e lo torna a installare niente non riesco a farci comparire nulla e quindi e quindi devo un attimo gestirlo però questo è in realtà l'ideale sarebbe avere un embedding un po' più un po' più carino però come dire abbiamo già ottenuto un risultato quantomeno nella prima parte facendolo vedere nel browser quindi io compilo il mio package almeno questo funzionava quindi vado a compilare il mio package quindi ricapitolando che cosa abbiamo fatto abbiamo implementato le interfacce giuste poi l'obiettivo era questo chiaramente in quel form potremmo incollarci il codice potremmo anche generarla potremmo anche avere un qualcosa che ci genera l'immagine oppure importare creare un porting di quello script che gestisce questo carbon capire come disegna il codice e farlo poi interamente con svg o cose con schia o cose di questo tipo quindi ci sono queste interfacce che intercettano ciò che avviene in notifar generico o all'interno del codice abbiamo creato la lista delle azioni che è un contenitore dei comandi che vogliamo gestire ci siamo segnati se è stato registrato correttamente l'oggetto di Delphi che interagisce con l'editor in particolare il menu qualche metodo per gestire il click sull'unica azione al momento che genera codice e i metodi per mostrarla a qualche parte quindi creiamo la lista e le agganciamo la distruzione diciamo sganciamo le azioni e distruggiamo la lista di azioni per crearla entriamo prendiamo questo editor questo local menu che in realtà poi qui viene usato ma potremmo anche passare direttamente qui sotto oppure fare una cosa di questo tipo tanto a noi interessa i servizi prendere l'editor registrarlo e scriverlo registrato ci vuole un'azione per il menu se è un menu singolo ne basta una se vogliamo un sottomenu ci vuole il parent che deve venire prima e poi il secondo questi metodi sono tutti vuoti perché sono richiesti in interfaccia la getcode dall'editor service prendiamo la view corrente quella col focus tiriamo fuori il blocco e nel text c'è il codice per farlo vedere nel browser abbiamo l'URL formatato facciamo l'encoding del codice perché dobbiamo sostituire i caratteri speciali linguaggio pascal e con la shell execute che diamo al sistema in questo caso in windows di aprire qualcosa che riesca a leggere in questo caso l'URL quindi lui vede http quindi fa partire il browser predefinito show coding delfi usa un form però al momento dobbiamo gestire la cosa del browser magari ci darò un'occhiata e mi divertirò a capire che cos'è lo sgancio è il togliere la register dell'action list non passando l'action list ma il nome che gli abbiamo dato in fase di inserimento e il resto non è implementato però ecco parte questo codice è quello che registra ed è registra quindi questo è il plugin è l'helper per poter aggiungere le voci di menu estrarre il codice qui ci sono le registrazioni di tutti i tool che abbiamo eventualmente nel nostro package è un package design time il form quindi potremmo aggiungere form potremmo far vedere nell'editor di delfi delle finestre anche nostre prendere quel codice importarlo magari se riusciamo a fare un rendering dell'immagine e chiedere se salvarla copiarla nella clipboard ci possiamo fare una cosa che da quel codice chiaramente qui l'obiettivo è dare un'idea anche delle delle potenzialità di questa cosa qui al net dell'esempio abbastanza banale quel codice noi potremmo ad esempio spedirlo a git pubblicarlo come come si chiamano i gist cioè quel a un repository dove condividi codice non so vuoi mettere vuoi chiedere aiuto a qualcuno prendi il come dire il tuo pezzo di codice lo pubblichi online ti fai dare un link e lo condividi e questa parte potrebbe anche essere automatizzata con un servizio esterno qui viene deregistrata deve importare i giusti package quindi la parte per interagire con l'editor questa è la libreria di base questi li ha aggiunti perché abbiamo usato il browser e quindi abbiamo questa parte sono i package che contengono il wrapper in questo caso per il browser e per internet explorer una volta completato il nostro plugin lui come funziona si piglia un pezzo di codice a piacere tipo questa parte qui con le uses con la dichiarazione iniziale tasto destro generate parte il il menu e ci fa vedere il codice formatato potremmo limitare la quantità di codice perché sicuramente c'è un limite a parte che non è che vada poi in error browser il browser prova a richiamarlo mi dirà guarda che la stringa è troppo lunga quindi qui basterebbe appunto fare export svg e saremo già a posto quindi voglio fare uno screenshot del mio codice mi interessa questo perché ci sono le unit carbon generate vado qui export e questo è png e ci esportiamo l'immagine png del codice chiaramente questa parte sarebbe bella automatizzarla sarebbe bella farci tante cose però da questo punto di vista è già comunque un'accelerazione rispetto al copiare andare qui togliere questo fare un'incolla fare cioè velocizza anche un po' l'azione quindi poi io ho scelto questo sito come 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 modello per avere qualcosa dove buttare le codice e vedere un output ma potrebbe essere appunto condivisione passare a un url per pubblicare un'immagine del codice cioè potrebbe essere fondamentalmente qualunque cosa ci venga in mente di fare con il codice che abbiamo selezionato nell'editor però sarebbe interessante questo esempio completarlo fargli fare un po' di altre cose quindi avere qualcosa di più di un pochino più più interessante e senza poi grossa documentazione a parte quella di Delphi però in questo servizio esterno andando a vedere quando faccio l'embedding come ho fatto l'url io vedo fondamentalmente che lui mette nell'url il font mette nell'url tutta questa serie di parametri per cui diciamo sarebbe abbastanza rapido e veloce indovinare ad esempio che questo cambia il tema e quindi andare a inserire questa parte dentro il nostro url in modo che invocandolo lui possa personalizzare il tema mettere un editor mettere delle opzioni mettere tutto quello che ci può venire in mente adesso qui ci metto di nuovo questa parte qui che mi sembrava anche interessante e quindi la torno a ricompilare ok magari l'esempio lo pubblico così voglio dimostrare uno come ho fatto questa parte tasto destro carbon generate e fa vedere questa parte qui e me lo prende e me lo ho formato quindi potrei metterci un tema passare nell'url ulteriori parametri perché vado a vedere qui t material quindi se io passassi nell'url and t uguale material lo vedrei così in bianco che non è proprio il massimo cos'è c'è darkula darkula forse non so bisogna andare a vedere quali sono quelli supportati nell'editor posso cambiare la dimensione delle finestre posso cambiare però c'è già questo snippet che posso fare copia e incolla e andarlo a passare e andare a passare il codice passare questo snippet a qualcuno e quindi condividere il codice poi dopo la fantasia se avete idee chiaramente le potremo anche vedere implementare in un in un successivo magari qualcosa di utile qualcosa per mettere il codice da qualche parte caricarlo oppure che ne so copiarlo c'è GPT vabbè che c'è già l'integrazione che più o meno poi funziona in questo modo estrae le informazioni dal codice fa dei prompt mirati all'AI e quello che che vi produce avete la possibilità mentre avete di inserirlo e così andare ad integrare il codice via API quello sarà interessante anche sperimentare un po' l'integrazione con il famoso lama anche se sia un po' pesantino ma giusto per vedere cosa vuol dire configurare un modello e fare un altro po' di altre cose direi che se fatta una scelta perché è mezzanotte è mezzodì come suol dire quantomeno abbiamo ottenuto un output quindi qualcosa di interessante dal punto di vista mi sposto un po' perché sono un po' dell'editor per cui qualcosa che quanto almeno abbia faccia un po' d'automatismo e quindi sia come dire utilizzabile in questo senso per cui è già una cosa che può avere una sua utilità questo sito c'è l'integrazione dovrei andarmi a vedere un po' come sono stati fatti i plugin per Sublime Atom Video Studio Code magari imparo qualcosa di più sul passaggio dei parametri dall'URL e da lì chiaramente andare a capire insomma più o meno come funzionano le varie i vari parametri magari potremmo avere invece che un generate anche un option prendere delle opzioni consentire di cambiare il tema eccetera l'idea del browser perché mi piaceva perché magari ti può fare anche da preview magari apro sempre il browser però potrei averlo integrato mettere una preview con un tasto aprirlo nel browser con tutta magari l'interfaccia o solo embedded potrei farmi già salvare un'immagine cioè quel carbon potrebbe diventare un ottimo attore condiviso sul come dire con una cosa che si può anche usare effettivamente in ambito di collaborativo ma comunque con un'utilità che accelera un po' le grazie per la live super interessante meno male meno che sto mi rincuora e niente grazie mille come sempre adesso metto sempre anche la sigla di chiusura però è troppo alta forse metto metto questa qui che più aiuto è molto soporifera però è più bassa dovrei forse abbassare un po' il volume magari è proprio per come dire lasciarsi questa volta faticato sono arrivato poi l'inizio beh comunque i replay ci sono sempre sul sul canale se si vogliono rivedere poi li metto anche su troppo alta bella ma è troppo alta su youtube c'è qualcuno che potremmo ridare c'è il frontender no non lo vedo il frontender vedo che c'è andrit dev c'è un po' di gente che chiaramente che sviluppa nessuno come al solito qualcuno qualcuno che scriva un po' di codice solito c'è vision che c'è la solita medley solita perché io non la conosco quindi siete in confidenza solita allora avete una vita fammi vedere fammi vedere leon confine coffee chat hunting cosa sta usando memore motepad non sta frontend developer ok la vedo sempre ma non la conosco quindi può essere che diciamo che per vederli in inglese di solito sono come dire bisogna mettersi lì perché in sottofondo lo capisco ma se non 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 sono concentrato tanto poi voglio dire coding si parla di coding facciamo coding anche solo per sentire come dice compila quindi va in sempre spiegare il significato in inglese di cosa vuol dire però potremmo potremmo anche andare da lei così vediamo che combina guardo anche le altre chat che cosa fa anche perché al momento direi che non c'è nessun altro abbiamo già raidato quindi niente intanto faccio ripartire così vi ringrazio come sempre per la presenza spero che siano state cose interessanti vedremo cosa portare la prossima settimana anche se adesso devo iniziare un po' a preparare materiale per la conferenza quindi mi devo un attimo vediamo dar da fare ai tdefcon c'è anche il delfidei di padova quindi a metà novembre sarà impegnativo però anche divertente quindi se venite a una delle conferenze ci si vede ci si vede là intanto rimanete quindi per il ride io vi ringrazio vi dico sempre seguite se vi va ovviamente il canale telegram perché ci sono gli aggiornamenti sulle live poi c'è anche il mio sito dove metto il calendario e dove scrivo e dove se sono in live c'è scritto di solito scrivo qualcosa prima se lì non c'è scritto vuol dire che non gliel'ho fatta anche se di solito metto un aggiornamento di nuovo grazie veramente per il ride buonanotte a tutti e alla prossima ciao ciao grazie mille alla prossima